Buongiorno da Fetti Online, borse in difficoltà, c'è stata la notizia questa mattina di un rialzo record da parte della Banca Centrale di Svezia, 100 punti base e la Banca Centrale ha avvertito anche che la politica monetaria dovrà continuare a rimanere restrittiva ancora a lungo. Ovviamente alla vigilia dell'appuntamento con la decisione della Fed di domani questa mossa ha destabilizzato i mercati, in avvio un tentativo di superare la doppia resistenza data dalla media mobile esponenziale a 50 giorni e dalla linea che scende dai massimi di inizio anno, poi vedete la rotta si è rapidamente invertita. Siamo in un momento critico perché fino a che area 22 e 250 non sarà alle spalle c'è il rischio di vedere riprendere la tendenza ribassista con obiettivi anche al di sotto dei minimi di luglio. Un po' di tempo che ripeto questo scenario, ovviamente è uno scenario condizionato ad una serie di eventi che si devono realizzare come la rottura del minimo di inizio mese in area 21 e 250, ma se andiamo a guardare dal minimo di luglio la struttura che abbiamo visto sembra essere correttiva e non impulsiva, quindi è probabile che questa fase di rimbalzo abbia solo corretto il ribasso che c'era stato da inizio anno e che adesso questo ribasso possa riprendere. Questo è il grafico del DAX, non aggiunge niente di nuovo rispetto a quello che siamo detti sul Fuzzimib, c'è però da notare che qui siamo già molto più vicini ai minimi di luglio rispetto a quello che sta facendo il nostro indice. È evidente che se il DAX dovesse passare al di sotto dei propri minimi di luglio sarebbe difficile poi per il Fuzzimib avere un comportamento diverso, quindi in questo caso è il DAX che evidenza una forza relativa cedente rispetto al nostro indice e difficilmente però potrà aprirsi un varco tra i due molto ampio se come dicevo il DAX dovesse scendere in maniera netta o sottare 12,5 a quel punto c'è il rischio che tutta questa fase che si è disegnata dal minimo di luglio sia da considerare un testa spalle di continuazione del quale questa sarebbe la neckline e ovviamente questa sarebbe la prima spalla, questa sarebbe la testa e questa sarebbe la seconda spalla. Sapete che nel testa spalla di continuazione come in quello di inversione vale la regola che una volta completata la figura si rischiano movimenti di ampiezza almeno pari a quella della figura stessa, qui ci siamo mossi da 12,5 a 14 mila, sono 1.500 punti quindi che potrebbero essere riviste a ribasso con un target verso area 11 mila. La borsa americana non è messa molto meglio della nostra, questo è l'S&P 500, avevo detto e anche scritto a inizio di settimana sulla nostra pagina Facebook che questo martello poteva essere portatore di un rimbalzo di breve termine ma che l'ultima candela settimanale che parte da questo massimo è stata molto ampia e molto direzionata e che quindi in un'ottica di più ampio respiro sembra possibile o probabile che l'indice prosegua sulla strada del ribasso che era stata vista dal massimo di agosto. Una situazione molto simile è visibile anche sul grafico del Dow Jones Industrial, anche in questo caso questa linea che ho tracciato potrebbe rappresentare la neckline di un testa e spalle di continuazione, vedete le due spalle sono più o meno sulla parallela alla neckline, questa è la testa, l'ampiezza del testa e spalle è rilevante, superiore al 10%, se dovesse venire confermata la violazione di questa linea e un ulteriore allontanamento da questa ci sarebbe pertanto il rischio di scendere ben al di sotto dei 30 mila punti. Oggi volevo fare una carrellata dei titoli del Fuzzimib più significativi, per quello che riguarda i clienti patron, andremo a guardare Enel, Eni, Leonardo, Intel San Paolo, mentre STM e Tenaris li guarderemo adesso insieme in questa versione di libero accesso del video e poi per i clienti di patron anche Unicredit. Perché STM e Tenaris? Perché sono due interessanti esempi di una potenziale figura classica dell'analisi tecnica, il flag, in questo caso per quello che riguarda STM si tratterebbe di un potenziale flag rialzista, il flag non è altro che una porzione di spazio di grafico contenuto all'interno di due linee parallele. Di solito ha implicazioni di continuazione, cioè quando compare questo canale dopo un rialzo abbiamo un potenziale e poi ovviamente la fase ascendente, quando compare questo canale come nel caso di Tenaris dopo un ribasso c'è il rischio che il canale sia invece un intermezzo di una fase ribassista ancora in essere. Ovviamente se la base del canale dovesse venire violata, quindi se il prezzo vessero scendere al di sotto di area 32,50-32,60 questa zona non sarebbe più da considerare un flag ma una fase di distribuzione saperebbe la strada per il ritorno verso i minimi di luglio. Se invece dovesse riuscire a salire oltre il lato alto del flag sarebbe un segnale molto interessante con la rottura di area 37,10 ci sarebbe uno spazio per andare ad interessare almeno area 43,75-44 euro. Pertanto STM è da seguire con attenzione direi in questa fase. Discorso opposto invece per Tenaris che negli ultimi due giorni ha toccato la base del flag, vedete nella seduta ieri si era disegnata questa candela di tipo doji dragonfly, apertura e chiusura coincidenti e lunga coda verso il basso, molto simile a questa che avevamo visto nella seconda metà del mese di agosto. Quando compare questo tipo di candela molto spesso si tratta di un riconoscimento di un'area di supporto importante, quindi possibilità di un rimbalzo. Se il titolo dovesse ritornare all'interno del canale il rischio di una fase ribassista verrebbe allontanato, attenzione però perché fino a che i prezzi non riusciranno a riportarsi in maniera evidente al di sopra della base del canale che è stata violata ieri e oggi c'è il rischio che questo flag venga confermato come tale, cioè come figura di continuazione della tendenza ribassista che è partita da fine maggio e sarebbe molto elevato il rischio di discese anche al di sotto dei minimi di luglio. Questo perché evidentemente saremmo in presenza di una classica correzione zigzag, quindi prima fase ribassista in 5 elementi, vedete 1, 2, 3, 4 e 5, fase di correzione in 3 segmenti, quindi onda A, onda B, adesso mancherebbe un'onda C ribassista che potrebbe essere di ampiezza uguale all'onda A, il che vorrebbe dire scendere a punta di sotto degli 11 euro. Pertanto Tenaris, grande attenzione, manterrà uno stop per le eventuali posizioni in essere sotto i 13 euro, andrà a ricomprare solo sopra area 14,50 e con il rischio, ripeto, di una fase ribassista rilevante. Per quello che riguarda STM invece andrà a comprare solo oltre il lato alto del flag con un target, che come abbiamo detto potrebbe dimostrarsi molto interessante. Per chi volesse vedere l'analisi degli altri titoli vi invito a seguirci su Patreon, patreon.com, FTA online. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie a tutti.